bene eccoci qua in questo primo video fatto con questa nuovissima samsung gear 360 non so dove sono nell'obiettivo però vediamo un attimino se funziona qui adesso l'audio da una parte adesso sposto l'audio dall'altra e nel frattempo io sono sempre quindi nella stessa posizione appoggiamo la giaggino e schiacciamo stop no la macchina